Si è svolto questa mattina presso la splendida cornice di Villa Vitrone in Caserta il convegno cultura e prevenzione organizzato dall'associazione Rise Up. A fare gli onori di casa la presidente Lucia Cerullo accompagnata dalla sua vice Giuliana Sorà, presenti all'appuntamento l'onorevole regionale Maria Luigia Iodice, la consigliera provinciale e consigliera comunale di Santa Maria Capoavetere Gabriella Santillo, la pittrice e scrittrice Anna Maria Zoppi, il biologo nutrizionista genitista in nutrigenetica e nutrigenomica dottor Francesco Di Tuoro ed il chirurgo oncologo dottor Crescenzo Muto. Informarsi bene e prevenire l'insorgenza di una patologia tumorale attraverso controlli periodici e screening, molti dei quali gratuiti in alcuni periodi dell'anno, sono fondamentali per cercare di evitare ulteriori morti causate dal cancro. Questo è il concetto sottolineato durante il meeting molto ben riuscito.